Siglato in prefettura, il protocollo d'intesa denominato controllo di vicinato, quale strumento di collaborazione istituzionale che mira a stimolare forme di sicurezza partecipata della cittadinanza sul territorio, attraverso la reciproca attenzione fornente un contributo all'attività di prevenzione dei reati. Il patto ha l'obiettivo di incoraggiare la segnalazione dei comportamenti o soggetti sospetti anche in forma anonima alle forze di polizia, mediante lo scampio di informazioni tra la popolazione e le autorità competenti. Questo strumento mira a coadiuvare le forze dell'ordine nella prevenzione, nel contrasto dei reati predatori e delle altre forme di criminalità. La sicurezza urbana è stata costantemente al centro delle discussioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e la stipula del patto rappresenta un ulteriore strumento per rafforzare la sicurezza della città. Il controllo di vicinato, secondo il prefetto Chiararmenia, sviluppa forme di prossimità e di non indifferenza, contribuendo alla creazione di una rete capace di rafforzare lo spirito di comunità e di cooperazione, accrescendo la sicurezza percepita. Nel frattempo il Comune sta avviando altre iniziative come il rafforzamento della videosorveglianza delle principali arterie e piazza del tessuto urbano e il potenziamento dell'illuminazione cittadina. Il prefetto ha sottolineato come questo sia solo un piccolo passo, replicabile anche in altri comuni della provincia, nell'ambito di un sistema complesso finalizzato a migliorare la sicurezza della comunità e la cultura della legalità.